Ti dico che ancora adesso se vedessi il secondo gol all'Australia piango. In realtà quando avevo dieci anni io non sapevo dell'esistenza del calcio femminile, non ne parlava nessuno. Abbiamo vissuto talmente tante cose insieme che separarci vorrebbe dire togliere proprio un mattone a una casa. Quando giochi con l'Italia dai qualcosa in più perché tutti ti fanno per te. Due volte nella top 11 mondiale e simbolo del calcio femminile italiano. E' passata a trovarci a Cantera Masterclass Barbara Valensea. Dopo vi spiego. Ciao ragazzi benvenuti sul canale della Cantera. Oggi per la prima volta un ospite donna. Abbiamo con noi una delle calciatrici più forti del panorama italiano e non solo mondiale. Per due volte inserita nella top 11 delle calciatrici. Diamo il benvenuto a Cantera Masterclass a Barbara Valensea. Grazie. Grazie mille. Oggi siamo decimati. Ti abbiamo sottratto agli allenamenti oppure pausa, giorno di pausa? Oggi era il giorno libero quindi sono tranquillissima. Quante volte vi allenate più o meno la settimana? Cinque, più la partita, più o meno sì. Quindi un giorno? Sì, dipende dalle settimane, dipende quando giochiamo nel weekend, se giochiamo di sabato o di domenica, dipende quando abbiamo giocato la settimana prima, dipende da tante cose. Ti inizio con la domanda più classica che fanno spesso anche a me. Una donna nel mondo del calcio. Come, quando, dove nasce questa passione? Allora, come? Vabbè, molto semplicemente. Penso anche alla storia di tante noi calciatrici. La passione ce l'aveva mio fratello e mio papà. Giocavano, mio fratello a tre anni più di me. E giocava sempre nel giardino di casa. E quindi io, vabbè, sono nata che lui già giocava con mio papà. E penso che la passione ce l'avessi dentro, però seguendo anche loro che giocavano nel giardino di casa, ho iniziato anch'io così. E poi mio fratello ha iniziato ad andare nella squadra del mio paese, che è il Bricherasio. E io, con mio papà, guardavo tutti gli allenamenti. Tutti. E penso che non fosse una cosa molto normale. Quindi l'allenatore della squadra di mio fratello, un giorno, mi vedeva sempre lì. Sempre lì a guardare gli allenamenti e diceva, ma scusami, tanto sei qua, vieni dentro, gioca. E poi, vabbè, vedi cosa succede. E quindi diciamo che è nata un po' casualmente. Però diciamo che poi è andata bene. E la storia è poi lunga. Eri già più forte di tuo fratello? No, mio fratello era veramente tanto forte. E diciamo che quando lui... Cioè, lo vedo che ogni tanto soffre perché poteva arrivare anche lui. Però era stato preso alla Juventus, anche lui. Solo che era piccolino, mio papà lavorava e non è mai riuscito a andare avanti questo sogno. Cioè, hai pensato tu per la famiglia Bonansea. Sì, dai. È andata bene. Però, vabbè, ovviamente mi dispiace, però so che lui è super, super, super felice per me. Che bello. Ma quanti anni avevi quando hai iniziato? Cinque. Avevo cinque anni, sì, ero piccola. E non potevo giocare le partite, quindi ho fatto un anno. Ci chiamavano i mini pulcini. Ok. E ho fatto un anno senza mai giocare perché ero sotto età. E quindi mi allenavo sempre. Però alla fine quando sei piccolo non ti rendi conto. Cioè, non è come adesso che se per una settimana non fai la partita e impazzisci. Quando eri piccolo giocavi come giocavi a scuola o a casa. Un po' come me, però io a vent'anni mi allenavo e basta. Non giocavo mai. Ma quindi tu hai iniziato con i maschietti, immagino. Com'è il rapporto? Io ho iniziato a giocare tardissimo, quindi non ho mai giocato con i bimbi maschi. Come viene trattata la ragazzina? Ma guarda, dai bimbi in modo normalissimo. Perché come io penso e dico sempre alla fine i bambini non è che si rendono conto della diversità. Sono più che altro le persone adulte che te ne fanno rendere conto. Quindi io ero con loro sempre. Erano i miei amici di scuola e giocavamo sempre insieme. Quindi era molto naturale andare al campo con loro e giocare. Quindi per i miei compagni, i miei amici era una cosa molto normale. Diventava un po' più diverso quando andavamo a giocare alle partite. Che alla fine ero pressoché l'unica femmina. E mi riconoscevi perché avevo i capelli ricci, non come adesso. Lunghissimi, quindi era impossibile confondermi. Diciamo che i genitori purtroppo qualche frecciatina la tiravano. Io non la sentivo, loro erano fuori. Però la sentivano i miei genitori, quindi non era particolarmente bello. Però diciamo che i miei amici e tutti, anche i ragazzini con cui giocavo contro, era normale. Quindi hai iniziato a farti le spalle grosse già da piccolissima. Guarda, sì perché in realtà non vedevo differenza ma la prima partita è stata tosta perché ero piccola, avevo sei anni. Mi sono sentita un po' diversa perché non sono entrata con i miei compagni. Mi sono cambiata in un altro spogliatore che poi a sei anni, voglio dire, era uguale, cioè ho potuto cambiarmi con loro. Però era stato così quella volta e quindi mi ero cambiata da sola. Sono uscita, adesso te la racconto dagli occhi di mio padre e mia madre perché io non è che me lo ricordo molto bene. Però sono uscita fuori, ho visto tutti i miei compagni con la divisa e l'altra squadra con la divisa e io ero lì, loro mi stavano aspettando. È stato strano e quindi ho iniziato a piangere come una bambina. Ho iniziato a piangere, non volevo assolutamente giocare. E mio papà ha provato a convincermi, dai ma entra, c'era il mio allenatore, ma scusami ma sei sempre lì che giochi. E alla fine poi uno e l'altro mi dicono ma è la stessa cosa, è la stessa identica cosa di come quando ti alleni, solo che oggi, vabbè, sei entrata dopo ma guarda che sono come te. E alla fine poi ho giocato e poi è una bella storia. E poi come l'hai superato questo momento? Non ne ho idea, nel senso che secondo me era solo proprio quella piccola paura di essere diversa. Cioè, non lo so, non te lo so dire. Che forse da piccoli è uno svantaggio da grande la forza di essere diversi, da qualcosina in più. Forse sì, perché poi sì, è diventata la mia forza essere l'unica, essere quel qualcosa di diverso che era sempre guardato in modo un pochino strano purtroppo. Però è diventata la mia forza perché poi, non lo so, ero bravina, mi divertivo e mi riconoscevano tutti. Sì, quindi era bello, era un po', sei la mascotte, sì. Cioè, anche i genitori degli avversari quando poi, passato il primo periodo che ero, quella strana. Mi ricordo che poi uscivo e tutti i genitori venivano a farmi complimenti. Sei brava, ma che bello. Quindi ero diversa ma poi, cioè, era bellissimo. Che sensazione si prova ad indossare la maglia e soprattutto la prima chiamata? Quando arriva la chiamata della nazionale, cosa prova? Allora, ti dico un piccolo segreto. Io ho ancora il foglio della prima convocazione. Prima convocazione in prima squadra della nazionale A. Ce l'ho ancora lì plastificato a casa con un quadrifoglio appiccicato. E la prima convocazione, vabbè, in prima squadra, non parliamo delle giovanili, che comunque, vabbè, è importantissimo, però vabbè. È stato particolare perché uno non me l'aspettavo minimamente. E poi ero in, ero al Torino ancora e mi ricordo che scesi in spogliatoio, c'erano tutte le mie amiche e dissi guarda che mi hanno convocato in nazionale ed è stato, cioè, bellissimo, perché erano felici per me. Che comunque noi eravamo il Torino, che prima era stata una grande squadra, adesso eravamo lì che lottavamo un po' per salvarci, per stare a metà classifica. E vedere una di noi che ce la faceva era bello, quindi gioivano per me. Bella che le tue amiche invece che i compagni. No, erano amiche, quindi sì, non potevo sbagliarmi. E poi indossare per la prima volta la maglietta è stato bello perché te la vedi lì, sulla panchina, pronta, e alla fine hai sempre guardato la tv, la nazionale, la nazionale, e sei lì che rappresenti tutto il tuo pop, però poi quando sei un po' più piccolina non è che te ne rendi tanto conto, adesso pesa, cioè è anche molto pesante. Però ecco, quella prima volta è stata particolare perché ti emozioni, cioè ovviamente ti emozioni, ti metti su quella maglietta che alla fine tutti sognano, un po', chi gioca calcio, chi fa sport in generale sogna di indossarle, quindi avere quel privilegio è bello. Le emozioni del mondiale invece del 2019? Il mondiale è un po' simbolo di quella nazionale. Sì, dovrei parlare per ore per raccontarti quel mondiale, però non so, cioè non te lo posso descrivere, cioè te potrei dire milioni di cose e dirti niente. Si spegne tutto o c'è un flusso di coscienza e di emozioni? C'è un ricordo bellissimo del gruppo, della fatica che facevamo, cioè è tutto un ricordo bello. Anche quando abbiamo perso è stata una festa perché sapevamo di aver fatto qualcosa di grande per noi come calciatrici ma anche un po' per lo sport al femminile. Alla fine io credo che per essere riconosciute, per essere prese sul serio, purtroppo devi portare a casa dei risultati, questa è la legge dello sport. Quindi quell'anno abbiamo fatto qualcosa di grande e abbiamo cercato di dare voce a tutte quelle donne che da anni giocavano a calcio, come ho fatto anche io nell'oratorio, così. Ci siamo riuscite e adesso stiamo cercando di lavorare per mantenere questo livello, però è stato qualcosa di pazzesco. A proposito dei mondiali e della nazionale, io mi ricordo che quando vedevo i mondiali nel 2019 c'erano delle telecronache assurde ed era anche il primo grande evento comunque in diretta di una certa rilevanza. Volevo chiederti, ti sei mai rivista quella telecronaca? Che sensazione è stata poi rivedersi e dire cavolo sono stata lì, mi hanno visto milioni di persone e hanno urlato per me per un mio gol? Allora, sinceramente tutte le partite no. L'ho rivista i gol perché vabbè è ovvio, alla fine anche subito dopo uscivano un po' dappertutto. e ti dico che ancora adesso se vedessi il secondo gol all'Australia piango. È una roba, ti riporta quell'emozione, cioè vedere anche gli spazi, ma poi per come è venuto, perché era l'ultimo minuto, non lo so, probabilmente nessuno ci credeva quanto ci credevamo noi. e quindi vedere, rivederlo, vedere che anche le telecroniste erano incredule, cioè dal punto di vista bello perché era una roba pazzesca perché veramente nessuno ci, cioè anche i pronostici, però in realtà nessuno poteva pensare che noi potevamo battere l'Australia e invece l'abbiamo fatto e risentire quel gol, perché solo si sente Carolina Moracci che dice gol e è qualcosa di bellissimo perché, cioè ma poi mi vedi lì che non capivo niente, non capisco niente neanche adesso perché non è per me ma è proprio per il calcio femminile, per noi, per tutto quello che abbiamo fatto, cioè pazzesco. Normalmente gli stadi delle squadre femminili sono dedicati alle squadre femminili, ma in alcuni casi vengono utilizzati anche quelle delle squadre maschili, come in questo caso è stato utilizzato quello dello Juventus Stadium nel caso della Champions League, C'è qualche esperienza che ti è rimasta impressa in qualche stadio, non solo all'Allianz Stadium ma anche in altri stadi in Italia? Sì, no, c'è stata ed è all'Allianz Stadium, purtroppo è questo, ma penso più che altro perché vabbè sono a Juventina, quindi un po' poter giocare nello stadio che ho sempre sognato, perché alla fine vedevo sempre i miei idoli e comunque la squadra del mio cuore che giocava in quello stadio, è stato strano, però è stato forse il primo vero stadio grande in cui io abbia giocato, perché sì, avevamo giocato già anche in altri stadi, però quello era il nostro stadio ed era pieno di gente, cioè quello ha fatto una grande differenza. Noi sapevamo che avremmo giocato finalmente all'Allianz Stadium e vedevamo, abbiamo detto vabbè, ma sì, riempiremo magari il primo anello, perché sai, c'è gente che ci segue, però nessuno si aspettava che ci fosse tutta quella gente. e abbiamo nella settimana di preparazione alla partita con la Fiorentina, vedevamo i giornali e dicevano 10.000, 15.000, 20.000, ho detto ma sì, ma figurati, 25, 30, ho detto porca miseria, siamo matti. E alla fine siamo arrivati ai 40, cioè al pieno, sì, al pienone, e lì diciamo che un po' ho iniziato a tremare. È stato più che altro l'arrivo allo stadio e noi arriviamo col pullman e prima di arrivare in trasferta solitamente, però lì eravamo col pullman, mettiamo l'inno della Juve e io non riuscivo a cantare una parola perché piangevo. Penso non solo io, però vabbè. E quindi arrivare a vedere quella discesa dove solitamente vedi arrivare il pullman dei ragazzi e cioè è assurdo parlarne così, però in realtà è quello, cioè dovrebbe essere la normalità, non lo era, non lo era quel nel 2019, non lo era. E quindi diciamo che ho pianto, poi arrivi allo spogliatoio, vedi i nomi dei ragazzi, cioè è tutto un po' strano. Poi quando siamo uscite per l'inizio della partita che lo stadio era pieno, tutto bianco e nero è stato indimenticabile. Poi da lì ci sono state altre volte, però ecco, quella è quella che ricordo in modo particolare. Che rapporto avete con i ragazzi della prima squadra? In realtà poco perché loro si allenano in un altro posto, quindi non li vediamo così mai. Ci siamo incontrati un paio di volte prima del covid, quando c'erano le feste natalizie. Persone normali. Colleghi. Invece voglio tornare alla parentesi del quando giocavi nel Torino, quindi proprio agli inizi. Dopo la squadra del tuo paese c'è stato il Torino, giusto? Da tifosa juventina, entrare a far parte da piccolina nella squadra rivale, in qualche modo la passione per il calcio superava il tifo? Beh sì, no, ma guarda in realtà non ci avevo neanche mai pensato quando ero piccolina, perché alla fine era, io volevo solo giocare a calcio e in realtà quando avevo dieci anni io non sapevo dell'esistenza del calcio femminile, perché non lo vedevi in tv, non ne parlava nessuno, e quindi non è che c'erano i social come adesso, internet si iniziava a esserci il computer a casa, io sto parlando, sembra che c'ho cent'anni, però è la verità, cioè voi siete giovani, era così, e quindi non conoscevo il calcio femminile, quindi quando mi hanno chiamato, mi ha chiamato questo allenatore di un paese vicino al mio, mi chiama e mi fa guarda che c'è il Torino femminile che vorrebbe che tu andassi a giocare con loro, io ho detto papà ma che cavolo sono dicendo, ma c'è il calcio femminile? Ah eh sì, cioè quanto pare sì, quindi io non è che ho detto Dio il Torino, io sono della Juve, cioè ma poi era calcio, cioè è sempre calcio, però secondo me, cioè ti fare una scuola femminile e maschile, cioè non è la stessa cosa, quindi per me era un'opportunità troppo grande. Assolutamente sì, quindi non ce l'ho nemmeno pensato, e poi purtroppo per fortuna il Torino, cioè la Juventus non era in Serie A, non mi ricordo bene se era in Serie B, adesso non voglio dire cavolate, però comunque il Torino era in Serie A, la Juve non c'era, quindi non c'era neanche questa diatriba, Cioè quindi da piccolina il tuo sogno era quello però di arrivare alla Juventus un giorno? Come ti ho detto, non sapendo che esistesse, cioè non... Crescendo però. Sì, crescendo sì, crescendo in realtà quando ero al Torino, sapevo che c'era anche la Juventus, però il Torino era in Serie A, quindi era un gioco forza, ero, cioè stavo in Serie A. Poi quando sono passata al Brescia, dopo due o tre anni, adesso non mi ricordo precisamente, però era nata la Juventus femminile, erano nate le prime squadre giovanili, e io abitavo con Martina Rosucci, e dicevamo, porca miseria, che bello, avrei voluto nascere dieci, quindici anni dopo per poter fare parte della Juventus, e quindi eravamo lì che dicevamo, che bello, che bello, che bello, un po' gelose. E poi uno, due anni dopo, se non mi sbaglio, sentivamo notizie, guardate che forse fanno la Juventus femminile, prima squadra, e noi dicevamo, ma no, ma figurati, è impossibile. E diciamo... Invece? A casa diciamo, magari, che bello. E invece è nata veramente, quindi poi da lì è diventato... Cioè non pensavamo neanche di poterci stare lì dentro, invece poi ci hanno chiamato e... E ad oggi che sei colonna portante della Juventus, della Nazionale, per due volte allenato a Pundici Mondiale, qual è il sogno? Allora, io ho da sempre due sogni piccolini, vincere la Champions e vincere qualcosa con la Nazionale, cioè sono sogni semplici, però alla fine io dico sempre, cioè sognare in grande, provarci, poi se non vengono, vabbè, uno ci ha dato tutto. E questi sono i miei sogni, diciamo, più più grandi, però in realtà gli obiettivi sono sempre quelli di cercare di fare sempre del meglio, cioè a me piace tantissimo allenarmi, una roba... C'è tante persone che dico io non vedo l'ora che arrivi il sabato per fare la partita, invece a me piace anche solo arrivare al campo e dedicarmi al calcio, cioè mi piace, mi rende felice, non ci riesci sempre, è difficile riuscirci sempre, però è la cosa che penso, penso adesso, vabbè, credo che mi abbia fatto arrivare dove sono, perché non ho mai troppo pensato a oddio la partita, devo per forza fare bene, ho sempre pensato faccio bene tutti i giorni e poi quello che viene, viene, ed è venuto abbastanza bene per fortuna. Però diciamo che i miei obiettivi sono questi, allenarmi, migliorare ogni giorno, trovare sempre qualcosa da migliorare che c'è, ce n'è tanto da migliorare, e quindi queste, cioè, più terra terra, questi sono i miei obiettivi, cioè ogni giorno fare il meglio per migliorare. Un calciatore che comunque è ossessionato, anche lui dal lavoro, in senso positivo ovviamente, è Cristiano Ronaldo ed è anche un po' il tuo idolo, possiamo dirlo. Cosa ti piace di lui come calciatore, anche come atleta, come professionista? Guarda, vabbè, io ho iniziato a seguirlo ormai un po' di anni fa, quando aveva perso la finale dell'Europa, se non sbaglio, con la Grecia, e lui era molto giovane. 2004. Ecco, bravissimo. E non so perché, non era la partita, perché alla fine lì guardavo la partita e basta, è stata un'inquadratura che hanno fatto a lui dopo la partita, che era disperato, era disperato e a me mi ha trasmesso qualcosa che mi ha fatto sentire che lui era, avesse qualcosa in più. Cioè, non lo so, io ho visto nei suoi occhi, nella sua disperazione, nel suo pianto, qualcosa che sentivo anche io, non so come dirti. Cioè, c'è stata una connessione e da lì ho iniziato a seguirlo. E adesso ti dico che quello che mi ha sempre impressionato di lui è il voler fare gol, che non è quello che voglio io nella mia partita, però mi ha fatto capire che quando vuoi fortemente una cosa la puoi realizzare e se ci metti tutto ci arrivi. Probabilmente lui non è, come dicono in tanti, il talento come possiamo dire messi. Lui ci è arrivato lavorando e questo è quello che contraddistingue i campioni, nel senso che non tutti nasciamo con un talento, però se hai veramente la forza, la voglia, in qualche modo ci arrivi e questo è quello che mi piace di lui. Hai già parlato una volta su Cristiano Ronaldo, su una cena della squadra, dove hai incontrato per la prima volta Cristiano Ronaldo, ed è stato grazie a Chiellini mi hai detto. Dopo quell'avvenimento c'è stato già un'altra volta magari dove hai avuto una sfida con i tiri in porto con Cristiano Ronaldo, se c'è stato magari questo sogno di provare a fare una gara di tiri in porto con Cristiano. Avrei palesemente perso, però intanto dov'hai tirato fuori sta cosa che... Ho le mie fonti. Bravo. Mi hai fatto ricordare, vabbè, una bella esperienza. No, sfide con lui no, ma per carità non vorrei neanche. Cioè sarebbe bello poterci paleggiare, basta. E no, però ci siamo sempre incontrati fuori dal campo e ci siamo incontrati poi un'altra volta quando eravamo tutti e due nel top 11 del mondo e quindi aver condiviso... No, vabbè, però aver condiviso una cosa è stato bello. Una cosa, perché stiamo parlando di connessione tra te e Ronaldo, io vorrei far notare che la cantera ha una fortissima connessione con Barbara da sempre, dal giorno zero. Perché non so se ve ne siete accorti, ma qui sulla panchina c'è una figurina di Barbara. Motivi un po'... Non li spieghiamo? Ti rendo orgoglioso un pochino, non la pochina della cantera, però in generale essere su una figurina... Cioè io pensavo che era fatto apposta, invece guarda lì. No, riprendetevi vecchi video, zoomate sul cappello, sulla testa... Cioè non dicono bugie, ecco. Cioè è sempre stata e adesso ve l'abbiamo portata in carne e ossa. Collezionavi le figurine? Da piccola mamma mia, Con mio fratello, no? Ma era una roba... Cioè era una roba pazzesca, bellissimo perché... Era una cosa che ci legava, a parte tutto il resto, il calcio e così, però... Poi mio fratello, mamma mia, era odioso perché lui doveva mettere le figurine... Cioè... Precisamente... Mamma mia cade, Ma usava i guanti... No, ma era una roba odiosa veramente... Io ero più piccola, quindi prendeva le figurine e le attaccavo, lui arrivava... Staccava piano, piano piano le rimetteva bene. Ma lo fa ancora adesso con sua figlia che ha quattro anni. Staccavi! Cioè... Impazzirebbe, impazzirebbe, impazzirebbe. Mandiamo una foto. Cosa è il momento. Però la telecronica... Ah, in inglese? Allora, non l'ho mai vista in inglese. Questo ho provato. Beh, ma... Però questo... Quando hai visto la palla entrare... No, ma no, 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 no. Non è realizzato. Ma no, ma... Quel gol lì ha una storia veramente strana. A parte che credo... Io credo al destino. Però, ecco, quel gol lì proprio mi ha fatto proprio... Credere, cioè, fortemente nel destino. Perché io non sono una colpitrice di testa. Sono alta salto, ma non sono capace. Cioè, così. È una delle cose che devo migliorare. E quella palla lì era l'ultima palla. Una a uno eravamo... Era l'ultimo cross. E io ero lì per fare il blocco a Cristiana Girelli. Che lei è... Solo quella dovevi fare. Sì, io dovevo solo stare lì, cercare di bloccare una che marcava lei, e lei doveva fare gol. Questo era... E guarda, non ti so dire come. Però io ero lì in mezzo all'area. Qui, cioè, si vede. Io ero lì in mezzo all'area che cerco di fare il blocco a Cristiana. Poi parte la palla. Io dimentico che dovevo fare quella cosa. Inizio a correre all'indietro. Ma non aveva neanche senso quello che stava facendo. Perché correvo all'indietro. E nel mentre che correvo all'indietro, c'era dietro di me Elena Linari. Che mi diceva, lascia, 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 lascia. O vado io. Una roba del genere. Che lei è anche molto più brava di me. E io andavo indietro e salto e prendo sta palla e la palla entra. E mi dico, ma come è possibile? Come è possibile che è entrata? Doveva succedere questo? Non so perché a me, però è successo. Cioè è successo a me come a tutta la squadra. Però è stato... È il momento più emozionante? Della mia carriera. Sì, sì, sì. Da mani bassi. Cioè ce ne sono tanti. Però personalmente. Personalmente quello è stato... Spero di poterne creare un altro così forte. Però è stato... Giochi nella Juventus dal 2017. Hai più di 140 presenze e 70 gol. Ora ti parlo da Juventino. Sì. Ti parlo da Juventino. Quindi il tuo sogno è magari cambiare aria un giorno? Oppure diventare una bandiera del club? Allora. Questa è una domanda particolare. Guarda. Io non faccio mai... Cioè non guardo mai troppo avanti. Non mi piace. Cioè ho sempre vissuto così un po' alla giornata. E quello che capitava lo prendevo sempre bene. Perché poi sono ottimista. Quindi tutto è bello. Quindi non ti so dire cosa voglio in realtà. Io voglio giocare a calcio e divertirmi. Quindi se mi diverto alla Juventus rimango alla Juventus. Se alla Juventus, che magari non capiterà mai, però succederà qualcosa in cui io non starò più bene, io cambierò strada. Però casa mia è la Juve. Sul movimento in generale. Sì. Col mondiale del 19 vi scrivete un po' sulla cartina geografica secondo me. Cosa manca all'Italia per raggiungere i top, top, top? Sia come magari le ragazzine che iniziano. E se anche hai notato differenze da quando hai iniziato tu a adesso che mi sembra un mondo totalmente diverso. Allora, cosa manca? Allora, non è che ti posso dire cosa manca precisamente. Però già hai detto tu una grande cosa. Un bacino d'utenza più grande. Perché alla fine noi ci siamo arrivate con tanto lavoro. E anche anni fa hanno fatto grandi risultati con tanto lavoro. Quindi già questo ti fa pensare che siamo bravine senza avere una grande scelta. Quindi quando potremo avere una grande scelta dal basso, quindi tante ragazzine che iniziano a giocare, inizierai a scegliere quelle che fisicamente sono in un certo modo, che tecnicamente sono in un certo modo. Adesso fai fatica a trovare così tante ragazze che sia fisicamente che tecnicamente sono a un ottimo livello. Quindi, cioè, adesso sì, 50, 100, le trovi, 100 è tanto. Una cinquantina che per fare il gruppo della Nazionale A, ad esempio, siamo queste. Quando potrai poi andare a scegliere nel dettaglio, allora li farà la differenza. Però sono ottimista perché comunque abbiamo fatto grandi risultati senza avere questo. Poi altre cose, vabbè, ma banalmente gli investimenti, come nel calcio maschile. Se guardi l'Inghilterra, guardi l'Italia, c'è la differenza. Nel calcio femminile è la stessa identica cosa. Però i passi in avanti sono stati fatti. Cioè, secondo me siamo su una buona strada. E adesso che siamo diventate professioniste, hai tante tutele, hai tante cose che prima non avevi. E quindi puoi dedicarti totalmente al calcio. Questo fa una differenza enorme perché sei anni fa ero al Brescia e tre, quattro, anche di più, ragazze che giocavano con me lavoravano. Quindi come puoi arrivare all'allenamento e dedicare 100% del tuo corpo all'allenamento se mi sei svegliata alle 6, sei andata a lavorare, non puoi. Poi c'è tanto di cappello a queste ragazze perché hanno fatto una roba. Cioè, noi abbiamo vinto anche i campionati con queste sportive qua. Perché poi loro erano le vere atlete. E quindi questo farà la differenza. Cioè, fa la differenza e farà la differenza negli anni, nei prossimi anni. Poi vado a vedere ogni tanto le ragazzine, guardo tanto le nazionali, le under. E io vedo del bel calcio, quindi sono ottimista. E quando hai capito che sarebbe diventato un lavoro? Mai. Mai? Neanche adesso? No, adesso sì. No, però il momento in cui ho pensato che diventava proprio la mia vita è stato quando mi sono trasferita. Perché andando via dalla famiglia, da casa, dagli amici, comunque avevo 20 anni, era un po' il momento in cui ti formavi come persona. E cambiare totalmente, andare in un posto in cui, sì, avevo qualche compagno, c'era Martina che è amica di una vita, però comunque erano compagni tutte nuove. Rifarsi una vita anche sociale, lì ho capito che era un mezzo sacrificio che facevo perché vedevo una strada davanti a me e quindi poi, cioè, non avrei mai pensato che potesse diventare il mio lavoro, ma l'ho diventato, quindi bene così. Bene così. Nell'ultimi quattro anni comunque in nazionale ci siete con buonanzea. Giacinti, Giuliano, Linari, che sono anche le stesse ragazze di 4-5 anni fa. La domanda è, siete voi molto talentuose o con un lavoro, come dicevi prima, con un'organizzazione si riusciranno a creare delle nuove leve così forti? Ci sono, ci sono, ci sono, devono un attimo, non so come dire, noi abbiamo passato talmente tante cose insieme, cioè sia in nazionale che fuori, che probabilmente le ragazzine di adesso non passeranno perché comunque hanno un pochino più pronto e quindi probabilmente abbiamo formato un carattere più forte che è difficile, è difficile trovare e credo che, cioè, proprio noi insieme facciamo un pochino la differenza, siamo un pochino più vecchiotte di 4-5 anni fa, però teniamo botta, cioè, non so come dire, abbiamo vissuto talmente tante cose insieme che separarci vorrebbe dire togliere proprio un mattone a una casa, quindi quando togli un mattone a una casa c'è un buco, entra l'aria, fa freddo, devi riparare, quindi togliere un mattone dalla nostra nazionale devi trovare un altro mattone altrettanto forte e non è facile, cioè ce ne sono di ragazzine veramente forti, io ci sto dietro a queste ragazzine e cerco di aiutarle, ce ne sono veramente tante, però per essere quel mattone forte devono fare di più, devono fare di più, cioè è così. Siete anche un po' una generazione a riferimento, cioè io mi immagino una ragazzina che si è iscritta o vuole iniziare a giocare a calcio e dice io voglio diventare come buona alsea, dieci anni fa banalmente io non trovavo magari un articolo anche sul calcio femminile, adesso ho già dire, voglio diventare un esterno come buona alsea, deve essere comunque bello, fonte di ispirazione, cioè è bellissimo. È stranissimo, significa che abbiamo fatto qualcosa di bello e quando ti vengono a dire io ti seguo, cioè per me sei un esempio, io rimango sempre un po', non so mai cosa dire, cioè dico ma cosa faccio, io gioco a calcio, però la cosa più bella è quando vengono a dirmelo le persone adulte, perché va bene, le bambine sì, bellissimo certo, è una roba pazzesca e anche ti senti un pochino di responsabilità perché comunque ti guardano e l'esempio è una cosa che vuoi seguire, quindi cerchi di comportarti in modo che poi non riesci sempre perché comunque non siamo perfetti, però quando finisce la partita noi lì a Vinovo andiamo spesso a salutare il pubblico, cioè sempre salutare il pubblico e ci sono anche tante signore adulte che dicono grazie, che bello, avrei voluto io, però mi date la forza di cercare di fare qualcosa di più e per me è impagabile questa cosa perché vuol dire che anche una persona che comunque ha già vissuto parte della sua vita ha trovato in noi una forza per fare qualcosa di più della propria vita, quindi è bellissimo. Si sa comunque che ciò che rimane negli spogliatoi non si deve dire nessuna parte, ma ora lo vogliamo sapere. Cosa? Nella Juventus maschile Bonucci è il senatore, Juventus femminile chi è quella che dà proprio mazzate agli ultimi arrivati? No, mazzate? No, c'è sempre Sara Gama che lei è sempre sul pezzo, cioè sì, cioè è particolare, è una ragazza particolare, però se tu guardi le sue partite lei non molla mai, quindi c'è anche in allenamento, anche se c'è qualcosa che non va, che c'è da fare muso duro, lei c'è. Quanto è fondamentale nelle partite importanti la forza mentale del capitano a spingerti proprio, è come se ti aiuta a spingere la palla in rete nei momenti più difficili? Sì, tanto, cioè in realtà non basta una persona per fare questo, però ti dico che Sara personifica proprio questa cosa, il fatto di esserci sempre di, magari anche in un momento in cui la partita va male, lei la vedeva come un treno, una matta, cioè io vorrei tanto avere questa cosa che ha lei ma non ce l'ho e quindi quando vedo fare, cioè mi dà quella forza in più per dire adesso, cioè tiro, scavo, scavo da qualche parte e tiro fuori l'energia che penso di non avere ed è fondamentale, poi come ti ho detto non basta una persona per poter poi vincere la partita, guardi lei dici oddio, cioè devi essere già in tante che vanno verso la stessa direzione, però ecco lei ti aiuta molto in questo. Hai parlato tanto della Rosucci con cui ha un legame particolare, molto particolare, ma che rapporto c'è in generale tra compagnie di squadre, perché non è sempre semplice mettere insieme soprattutto tante ragazze, io ho vissuto un po' lo spogliatoio e oggettivamente potrebbero nascere un po' di controversie, e te è capitato? Guarda, io sono stata super fortunata perché ho sempre giocato in gruppi pazzeschi, al Torino c'erano quelle un po' più grandi, che però ci hanno insegnato tantissimo, e c'eravamo noi più piccoline, 15-16 anni, che eravamo delle matte complete, però ci volevamo bene quindi c'era un bel gruppo. A Brescia, una roba che non troverò mai più, lo so già, sono stati cinque anni in cui non c'è stato mai un problema, non te ne so trovare uno tra di noi, cioè mai. Ed è per questo che poi, anche se in 5-6 lavoravano, poi vinci, perché la fa la differenza. E anche alla Juve è così, cioè, anche lì non ho mai trovato grossi problemi. Ovviamente c'è stato qualche piccolo problema quando hanno iniziato ad arrivare le straniere, perché comunque all'inizio un po' che parlavamo inglese, quindi un po' il gruppo si divideva. Poi ci sono tantissime incomprensioni, perché se parli in italiano, cerchi di spiegare una cosa, non la sai spiegare bene, loro magari pensano che tu parli male di loro, noi siamo donne, quindi c'è proprio le regine di questo. Però cercavamo, cioè noi cercavamo sempre di aiutare, però ecco, forse i piccoli problemini sono nati un po' da queste incomprensioni soprattutto della lingua, però ecco, adesso parliamo quasi tutte benissimo, bene inglese, e quindi diciamo, poi il nostro mister parla inglese, italiano-inglese, però ecco, quindi diciamo che non ti tiro fuori nessun problema. Tirami fuori invece qualche aneddoto simpatico di squadra, di spogliatoio, magari con Martina. No, noi siamo un pelo scaramantiche, ma così, e facciamo ogni tanto delle cose che non hanno molto senso, cioè io sì un pochino scaramantica, ma più per motivi di attivazione, c'è la partita, fai il tuo rito, e le altre alcune sono un po' esagerate, però fa anche ridere, unisce anche questo, ma non ti posso dire proprio, vabbè, ad esempio, qualche cosa che ti posso dire, cioè abbiamo delle file per... Non si possono dire. Eh, alcune cose no, mi ammazzano, ma tu sei matta. Ah, loro ti ammazzano! Sì sì, mi ammazzano, cioè io potrei dirvela anche tutte, ma poi vado... Ma loro non lo vedranno, questo. No, eh sì. Vado in spogliatoio, poi vedi. No, ad esempio, abbiamo le stesse, più o meno sempre, cioè no, più o meno, sempre le stesse file nel riscaldamento, anche degli allenamenti, cioè non... Non si cambia. No, no, il prof si arrabbia, il preparatore atletico si arrabbia. Siete in tre, perché magari qualcuno è infortunata e la fila dove ci sono io, solitamente siamo cinque o sei, e succede che a volte uno o due non ci sono, e rimani in quattro, e di là ce ne sono sette, otto, e dicono, cambia. No, prof, ma che stai riprende? Vuoi perdere? Ma sei matto? No, no, no. Che poi lui è il primo, cioè... Siamo una squadra di matte. Prima di mettere il piede? No, non ce l'ho proprio, prima di mettere il piede, però prima, vabbè, io metto sempre, ma in realtà anche nella vita normale, sempre prima la scarpa sinistra, poi la destra, prima il parassinco sinistro, poi il destro. Cioè, non metto mai prima la destra, non so perché. Mi è più con un'abitudine che una scanzia. Cioè, non ha senso, cioè non ha un senso logico, è così. E prima però di iniziare la partita, quando, adesso guarderete questa cosa e ridere, cioè non è che fa ridere, però, quando l'arbitro fischia, quando saluti il pubblico, io batto le mani due volte e basta. Cioè, sempre due. Perché? Perché? E quando ero più, cioè il primo anno di Juventus avevo fatto questo percorso con questa ragazza che doveva fare una tesi di psicologia sportiva. E avevamo fatto un lavoro e avevamo trovato come rito di attivazione questa cosa qua, di battere due volte le mani. Quindi per me, quando io batto due volte le mani, inizia la partita. Molto semplice. Cioè, non è solo scaramanzia. E a proposito di psicologia sportiva, parliamo dei tuoi di studi. Perché tu sei una interrogazione su psicologia sportiva. L'importante è lo studio in un percorso calcistico, sia nel tuo caso femminile e anche in quello maschile. Cioè, un calciatore, quanto è importante che abbia anche una laurea che segua un altro percorso al di là di quello del calcio? Sembra, la bacchettona. No, per me è fondamentale. Perché intanto io ho iniziato a studiare quando non sapevo cosa avrei fatto, non sapevo cosa il calcio mi avrebbe dato e quindi dicevo cioè, non sono stati i miei genitori a dirmi, devi studiare. Sempre è stato un po' di senso di responsabilità, ero sempre un po' più vecchia di quello che dovevo essere. E quindi ho sempre pensato che avrei dovuto tenermi una, come posso dire un piano B, una via parallela una seconda vita. E penso che sia stato importante per me non avere solo il calcio, perché probabilmente mi ha tolto un po' di peso. Perché se tu giochi solo a calcio e dici io devo giocare a calcio, devo diventare questo, devo... Adesso ve lo dico, faccio fatica a respirare. Quindi figurati a casa quando sei lì e dici adesso vado a dormire perché domani c'è la partita, devo fare bene, devo fare gol perché poi voglio arrivare a giocare in questa squadra e se non ci arrivi cosa fai? Cioè, quando sei lì che dici adesso cosa faccio? Invece se tu... Ovvio che è anche importante avere questa determinazione, però se tu vai a casa e dici adesso studio un po', leggo un po', imparo qualcosa, togli un pochino di peso da quella che è la tua... il tuo volere, la tua determinazione di diventare calciatrice e metti un pochino di cose dentro che ti aiuteranno più avanti. E secondo me, non dico che tutti devono farlo perché non a tutti piace studiare, non a tutti piace stare lì a leggere, c'è niente di male, però se uno è indeciso io dico fai una doppia cosa che capisco che è difficile perché, cioè, giocare a calcio è impegnativo, devi già la vita sociale non è come quella di tutti gli altri ragazzi perché non puoi andare fuori, andare a dormire alle due perché poi il giorno dopo stai sotto un treno, però ti dico io l'ho vissuta benissimo, cioè a me è sempre piaciuto, studiavo quando mi portava povero mio padre che si faceva in chilometri, io studiavo mentre ero in macchina. Qui anche oggi? Eh, anche oggi, ha fatto i chilometri con me e... non lo so, credo che avere un piano B sia un pochino una salvezza anche per la testa. Cioè paradossalmente aver tolto tempo al calcio, averlo dedicato allo studio ti ha fatto diventare una calciatrice migliore? Non lo so, non è la... cioè non ho una ricetta. Però ti ha tolto... Però probabilmente sì, probabilmente mi ha tolto un pochino di fatica mentale in realtà, che poi la facevi magari studiando, però in realtà ti alleggeriva il resto. L'approccio? Sì, perché poi comunque anche quando andavi a dare gli esami era un'ansia che dici... E anche performavi meglio probabilmente. Sì, cioè che cavolo, cioè... Sei bloccata dall'ansia... Lì, è quello che so, so, se non lo so non lo so e ci provo un'altra volta, ecco. Perché poi ne sentiamo anche oggigiorno di robe veramente brutte, di gente che fa delle cose che... Cioè, non voglio... però... anche lì, devo studiare, devo diventare, non riesci a passare un esame, cioè sembra che finita la tua vita, ma non è così. Se hai solo un'alternativa, nel momento in cui fallisci, ti crolla... Ti sembra, ma in realtà non è così, perché poi, cioè, la vita ti sorprende. È stinta a avere più strade, che è una strada a senso unico. Assolutamente sì, perché... Poi dico, cioè, se uno vuole diventare dottore, non è facile, cioè, quello è anche, secondo me, molto più difficile. Capisco che magari non passi un esame e ti sembra che è finito tutto, ma in realtà non è così, cioè... Inizia che c'è... la vita è talmente bella che puoi fare... Vabbè, quindi non è sicuramente un esame. Domanda banale. Preferisci vincere la Champions League con la Juve, quindi spezzare la maledizione, o il Mondiale con l'Italia? Posso stare così? Puoi sbagliare così, sì. Lavo voglia la risposta adesso. No, il Mondiale con l'Italia. Cioè, per quanto la Champions League sia una roba fuori dal normale, però vuoi mettere tutta l'Italia, cioè, che vince il Mondiale, cioè, non per me, ma tutta lì, cioè, mio padre, mia madre, mia nonna, che... Poi, io dico, quando giochi con l'Italia, sembra non da professionisti, non professionale, però dai qualcosa in più, perché tutti ti fanno per te. Cioè, è una roba inconscia, secondo me, che non te ne accorgi, però, ecco, andando avanti con l'età, quando inizi un po' a pensare, a dire, ma perché secondo te quando sei lì sembra che hai più forza, più energia? E lo capisci, perché sono tutti che ti fanno per te, cioè, anche quello che ti fa per la Roma. È lì che dice, dai, buonasera, aiutaci a vincere questa partita. È diverso, e quindi, ecco, anche vincere il Mondiale, poi, non so, penso che sia il sogno un po' di tutti gli atleti. Sarebbe più facile battere il Lione o gli Stati Uniti? Eh beh, il Lione l'abbiamo già battuto, quindi... Sì, però dico, in finale, proprio con quante ne ha vinte adesso, lì, otto di fila, nove di fila. Eh, sì, con numeri però sì, tante, sicuramente sette, otto sicuro. Ne ha vinte tante, quindi sono forse abituate, ma anche gli Stati Uniti sono abituati a vincere, quindi non lo so. Io ho una domanda delicata da farti. Delicata? E la faccio perché, vabbè, penso che sia l'unica poterla fare quanto donna. Vai. E perché, anche se a livelli pessimi rispetto ai tuoi, ho giochicchiato a calcio. Secondo te, voglio un'opinione da calciatrice. Sì. È sbagliato pensare di poter modificare in qualche modo le regole, il regolamento, per renderlo magari più incline alle caratteristiche di una donna che non sono per genetica uguale a quelle degli uomini? Per me c'è un concetto di base sbagliato, che noi vogliamo vedere nel calcio femminile e il calcio maschile. Ok. Noi non siamo il calcio maschile, noi siamo il calcio femminile. Ho guardato Roma-Barcellona e ti dico, parlavo con le mie compagne e dico, io faccio fatica a vedere una squadra che gioca bene come il Barcellona. Poi ha giocato benissimo anche la Roma perché hanno fatto una partita stratosferica. Però dicevo, io non ne trovo di squadre maschili, poche, poche, che giocano bene concettualmente come il Barcellona femminile. E quindi dico, siamo noi da fuori che vogliamo vedere il calcio maschile, poi guardiamo a prendere il calcio femminile, ma sono lente, ma il portiere non salta come un mare. Ma chi ti ha detto che devi guardare il calcio femminile? Non lo guardare, se non ti piace, non lo guardare. Ok, dobbiamo diventare più televisive? Allora forse ti do ragione. Però io, da calciatrice, io mi trovo bene negli spazi che ho e quando vado a tirare a Polimpe Romagnan, fare gol è difficile. Cresceremo anche noi, se tu vai a vedere una partita degli anni 70 maschile, non c'è tanta differenza da noi. Quindi probabilmente... È questione di tempo. Probabilmente negli anni non diventeremo mai veloci come i maschi, non diventeremo mai forti come i maschi, perché se vai a vedere un centometrista maschio, un centometrista femmina... È un po' di differenza. I tempi sono diversi. Però perché anche loro fanno centometri? Perché sono centometri. Quindi ecco, questo è il mio pensiero su questa domanda che non è neanche stupida, è molto intelligente come domanda, però secondo me è il concetto di base che è sbagliato. Ma se tu unisci il concetto, lui dicevi che a livello di concetto di gioco la partita femminile è anche superiore. Alcune volte. Alcune volte quello maschile. Se lo facciamo, lo manteniamo, riduciamo gli spazi. Cioè io quando giocavo il campo non finiva mai. E dicevo... E lì è una preparazione... No, ma è una preparazione... Per me è una preparazione atletica, fisica e tecnica che arriverà col tempo. E come ti ho detto, cioè io ho guardato delle partite degli anni 70, degli anni 80 quando giocavano dei fenomeni, però il calcio era lento. I concetti tattici erano una roba opropriosa, cioè opropriosa, scusate, però è così. Cioè se tu guardi una partita di 40 anni fa e guardi il calcio di adesso, anche maschile, fai un confronto e dici ma cos'è questo? Cioè vedi dei talenti, vedi tante cose belle, però vedi anche delle cose che sono strane, vedi anche i portieri che non riescono magari a spingere come spinge un portiere da adesso. E secondo me con il tempo anche noi arriveremo. Sempre per rimanere in questo argomento qua, io su Twitch tante volte faccio vedere le partite, gli highlights del calcio femminile. E una cosa che ho notato io personalmente, più che il campo è proprio la porta, cioè nella pallavolo la rete è un po' bassa. Semplicemente io dico, ok, quello che dici tu sulla tecnica, sulla pulizia del gesto, quello lì ci arriverete sicuramente, infatti già si vedono tanti miglioramenti, ma proprio fisicamente, da palo a palo, è molto più difficile, cioè lì non è questione di tecnica, è questione fisica. Però il tiro nostro è più lento di un tiro di un maschio, quindi un portiere, io tiro a 10 km orari, il maschio tira a 20 km orari, il maschio portiere è geneticamente più forte di un maschio, di una femmina portiere, scusa, e quindi arriva prima a parare il tiro dei venti, ma è proporzionato, è proporzionato. Sì, sì, era una provocazione, non era una... No, però, cioè, almeno io fisicamente penso che, cioè, anche la fisica, però penso anche che donne portiere sono veramente poche e inizi tardi perché giochi a calcio, oggettivamente, chi è che vuole fare il portiere? Gioco a calcio, vuole fare il portiere? Ce ne sono pochi, e anche nelle femmine, quindi già sei meno, quindi ancora meno portieri, quindi iniziano anche più tardi, cioè se tu parli con i portieri che abbiamo noi in nazionale, facevano uno l'attaccante, uno il centrocampista, uno il terzino, hanno iniziato 10, 11, 12 anni, quindi quando impari a essere, cioè, quando impari la tecnica, ah, 10, 11, 8, 9, fino a 15, 16 anni, poi dopo limi, fai, cioè, smussi, però, quindi capisci che se ci sono pochi portieri femmine che si allenano da quando hanno 5 anni a fare il portiere, è più difficile trovare dei portieri veramente forti. Ci sono, però ce ne sono pochi. Come, cioè, credo che sia una cosa anche molto naturale di numero proprio, e quindi credo anche questo, aumentando il numero di ragazzini che giocano a calcio, aumentando il numero di portieri, sceglierai quelli più forti, quelli che là all'angolino ci arrivano. No, 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 beh, io sono d'accordo. Era che magari ogni tanto qualcuno scriveva, eh, ma almeno detto da te ha un senso, detto da me magari dici, vabbè, ma tu che cacchio? No, ma capisco, ma io vedo anche video di maschi che fanno delle cose, cioè, delle papere, e lì, vabbè, succede, però poi quando lo fa una femmina lo mettono da tutto questo e il calcio femminile. Ma va, capito? Cioè, lo fanno anche i maschi, cioè, capisco, a volte noi facciamo delle robe, ma... E niente, quindi ci vorrà ancora un po' di tempo per aumentare il livello, per ridurre il gap. Speriamo poco, dai. Speriamo poco qua, però il nostro tempo è finito, purtroppo. Ricordatevi di condividere il video, di lasciare un bel mi piace, di lasciare un commento, e noi... di attivare la campanellina. E noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi, ciao!